Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Perché Liliana Resinovic presentava una frattura vertebrale? Questo è uno dei misteri emersi dalla seconda perizia autoptica sul corpo della donna triestina. Trovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex OPP, vicino al centro abitato. La frattura, localizzata nella vertebra T2, solleva domande inquietanti. Potrebbe essere il segno di un'aggressione? Durante la puntata di quarto grado del 18 ottobre. L'ortopedico Massimiliano ha offerto una spiegazione interessante, affermando che la lesione potrebbe essere compatibile con un colpo di frusta, forse causato da una colluttazione o da un movimento brusco imposto da un aggressore. Si potrebbe immaginare una scena di tensione in cui Liliana veniva forzata in una posizione innaturale mentre tentava di difendersi. Tuttavia, va sottolineato che l'aggressione non sarebbe necessariamente la causa diretta della frattura. Potrebbe essere avvenuta in auto, durante una frenata improvvisa che ha peggiorato la situazione. Inoltre, c'è anche l'ipotesi dell'osteoporosi, menzionata in passato dal marito Sebastiano Vicentin, anche se lui stesso l'ha esclusa. Secondo Vicentin, una frattura di quel tipo avrebbe causato dolori intensi e visibili, ma Liliana non aveva mai mostrato segni di sofferenza. Che ne pensate? Aggressione o incidente? Questo nuovo dettaglio complica ulteriormente il caso di Liliana. Cosa ci riserveranno le prossime rivelazioni? Continuate a seguirci per non perdervi gli aggiornamenti.